Ciao a tutti, davvero spero che stiate bene. Allora, sono qui per spiegare un po' meglio il compito che è da fare per domani, martedì 19 maggio. Allora, cominciamo con il compito più semplice, quello di immagine. Nel di immagine avrete due lavori. Il primo è studiare a memoria la breve poesia che vi ho messo sui colori primari e secondari e colorare il disegno che vi ho messo, che spero riusciate a stamparlo perché andrebbe stampato, e colorato seguendo le indicazioni che sono riportate sul foglio. Questo conclude il lavoro di immagine di quest'anno. Quindi avremo colori primari, colori secondari e composizione dei colori freddi e colori caldi. Detto questo, immagine lo ritengo concluso e questo varrà come compito anche autentico per la valutazione finale. Passiamo a musica. In musica il lavoro è un pochino più complesso anche con musica. Oggi finiamo il programma di musica di quest'anno e la spiegazione di oggi è integra a quella che vi ho già fatto nella videoconferenza. Allora, lavoriamo sul ritmo, sempre sulla durata. Allora, innanzitutto il tempo che scegliamo è un tempo di due quarti. Quindi, ecco che quando voi andrete a posizionare la scritta due quarti, la posizionerete all'interno di una riga. Cioè tracciate una riga e all'inizio scrivete due quarti. Dopodiché significa che ogni due quarti dovrete posizionare una linea che separa le spaziature in modo che in ognuna ci stiano due quarti. Detto questo, abbiamo da giocare su tre durate. Allora, uno è la durata della semiminima che prevede un quarto di durata. La semiminima è quella che noi facciamo comunemente col termine TA. non ha nessun trattino, ha solo un cerchio nero e una linea o in su o in giù. Quindi questo vale un quarto e viene fatto col termine TA. È la prima nota di durata che andremo a posizionare sulla nostra linea. Una seconda nota che andremo a posizionare è la croma. La croma vale un ottavo. Noi lo facciamo quindi nel tempo di un TA, ci devono sempre stare due T e quindi viene TA-TI-TI TA-TI-TI-TI-TI TA-TA E questo è un esercizio che abbiamo già fatto anche l'altra volta in due righe. Ora ecco il più difficile, quello che si aggiunge oggi è la BISCROMA. La BISCROMA è una nota che vale ben un sedicesimo, quindi è molto veloce, è una delle più veloci nel nostro modo di pronunciare in un tempo medio di velocità. Allora, come faremo nella pronuncia di queste note? Tiri-tiri, tiri-tiri Allora, nel tempo di un TA ci deve stare quattro tiri-tiri, quindi quattro note. E viene fatto così. Tiri-tiri, vedete? Tiri-tiri nel tempo di un TA. Come farete il movimento del tiri-tiri? Così. Tiri-tiri 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 Quindi abbiamo questo tipo di movimento che viene fatto in questo modo. TA-TA TITI TITI Tiri-tiri Tiri-tiri TA-TA TITI TITI Tiri-tiri 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 TITI TA Ecco, ho fatto un esempio. Voi quindi cosa dovrete fare? Ecco, giungiamo al lavoro. Mi raccomando che le note, nella durata, devono esattamente essere come vi ho appena spiegato. Cioè, nel tempo che voi fate TA, nel tempo che voi fate TA, devono starci due TITI, o quattro tiri-tiri. Chiaro? Quattro note da un sedicesimo, due note da un ottavo o una nota da un quarto. In realtà, la durata di questa è sempre la stessa. Quindi, noi dovremo andare nel nostro rigo a scrivere, almeno all'interno di uno spazio, l'arteggiato, vi ricordate che vi ho detto due quarti, ogni due quarti ci va la linea. Ecco. In uno di questi ci deve essere il Tiritiri. Tiritiri per essere però di due quarti, ce ne vanno ben otto. Quindi, diventerà Tiritiri, 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 Tiritiri. Il T ne bastano quattro. Quindi sarà TITI, TITI. Il TA ne bastano due. TA, TA. Quindi, abbiamo TA, TA, Tiritiri, 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 Tiritiri. Titi, Titi, Titi. TA, 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 Tiritiri, 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 Titi, Titi. Vedete che il tempo è sempre lo stesso. Come verrà giudicato il lavoro? Il lavoro non verrà fatto ripetere. Quindi, verrà accettato comunque, in qualunque modo ve lo facciate. Deve essere inviato su il registro elettronico e deve essere inviato attraverso l'immagine della riga che avete fatto, che va fotografata e inviata sul registro elettronico. Il titolo deve essere musica e il vostro nome e cognome. Poi, ci va brevemente questo filmato molto corto, che viene ripreso, mentre voi fate queste note. Tenete conto che all'interno di una riga non ci stanno che 5-6 battute massimo, quindi non fate una cosa enorme. deve essere una cosa dove ci possono stare, non lo so, di TA, TA, ce ne possono stare 4, per esempio. Tiritiri, 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 devono starcene almeno all'interno di una battuta, quindi di uno spazio, ce ne stanno ben 8. e Tittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt il primo era un po' fuori tempo, vedete esempio questo sarebbe stato un errore, vi avrà considerato come un errore. Quello che si segue è il tempo. Ci va proprio tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri. Quindi sarebbe un titi, 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 tiri tiri, tiri tiri, titi, 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 ta, ta. Chiaro? Questo in tempo binario. Spero di essere stato chiaro, il tutto va posto sul registro elettronico, con questo concludiamo anche quindi il nostro lavoro di quest'anno di musica. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti!